Sei io, ho 18 anni, credo che sono già in Francia, sono già venuta dall'Indocina. Che l'Olvi Stein dovesse avere un viso inespressivo, quasi neutro. Il vestito era verde. E a Cannes, al Festival di Cannes, riconosco la blues e sono ingrassata, vuol dire che avevo ricominciato a bere. Lo sguardo è lo stesso, c'è un invecchiamento naturale, ma sono rigorosamente la stessa persona. Non sono io che non sono cambiata, è che non si cambia mai. Io faccio dei film per occupare il mio tempo. Se avessi la forza di non fare nulla, io non farai nulla. Faccio film per occupare il tempo. Se avessi la forza di non fare niente, non farei niente. E' proprio perché non ho la forza di non fare niente che faccio film. Per nessun'altra ragione. Questa è la cosa più vera che io possa dire del mio lavoro. È un'occupazione che mi piace, assorbe tutto il mio tempo. Quando lavoro ai miei film non ho alcuna angoscia, mi sento molto bene, sono molto stanca ed è una sensazione magnifica.